Eccoci su Sicilia 24, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca e partendo da Partinico dove tre persone sono finite in mainette poiché sono state sorprese dai carabinieri dopo aver rubato un grosso quantitativo di mango. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno tratto in arresto tre uomini residenti a Palermo e già noti agli operanti per fatti analoghi poiché ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato. I militari nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso i tre individui, un 38enne, un 35enne e un 18enne, mentre nottetempo trasportavano circa 1500 kg di frutti di mango che immediati accerdamenti hanno permesso di ricondurre all'area furtiva appena asportata in un fondo incontrada in candela poco distante dal luogo del controllo. Quanto rinvenuto è stato riconsegnato al legittimo proprietario, il valore complessivo della refurtiva è stato stimato in circa 7 mila euro. I tre uomini, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati trattenuti in caserma fino alla celebrazione del rito direttissimo. Il giudice del Tribunale di Palermo, che ha convalidato gli arresti, ha sottoposto i tre, in attesa di giudizio, alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. E sempre a partidico, la polizia di Stato ha tratto in arresto un ventitrenne, un trentenne, i quali, forse ubriachi, la scorsa notte hanno picchiato e rapinato in strada un uomo, lo hanno spogliato e lo hanno derubato di 50 euro e un pacchetto di sigarette. La vittima, subito dopo aver subito la rapina, ha contattato la polizia fornendo un preciso identikit dei rapinatori e consentendo così agli agenti, nel giro di pochi minuti, di individuare e arrestare i due malviventi con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Cambiamo argomento, adesso parliamo di emergenza migranti soffermandoci sulla situazione di Lampedusa. Tre sbarchi autonomi per un totale di 56 migranti fra Molo Madonnina e Cala Croce si sono registrati la notte scorsa a Lampedusa. Sono stati i carabinieri a bloccare i gruppi di 38 egiziani, bengalesi e libici, 14, fra cui tre donne e un minore in fuga da Guinea, Mali e Bangladesh, e 4 tunisini. Negli ultimi due casi l'imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata ancora rinvenuta. Ieri sull'isola di Lampedusa ci sono stati 25 sbarchi complessivi con un totale di 572 migranti arrivati. All'hotspot di Contrada in Briacola al momento sono presenti 1.392 persone a fronte di appena 350 posti disponibili. Parliamo ancora di migranti ma da Lampedusa ci spostiamo virtualmente a Marsala. Circa 20 migranti infatti sono approdati autonomamente nella spiaggia del versante sud di Marsala a bordo di un vecchio barchino in legno. I bagnanti che in quel momento si trovavano sulla spiaggia e che hanno assistito alla scena hanno subito avvertito la guardia costiera ma nel frattempo i migranti si sono dileguati facendo perdere le loro tracce lasciando soltanto alcuni indumenti e giubbotti di salvataggio sul fondo della barca che hanno appunto utilizzato per arrivare in Sicilia e approdare sulla spiaggia di Marsala. Cambiamo ancora argomento, adesso ci spostiamo a Caltagirone, controlli da parte dei carabinieri e ovviamente non sono mancate né le denunce né tantomeno le sanzioni. Tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Caltagirone nel quadro delle attività disposte dal comando provinciale per contrastare la commissione di reati predatori e l'illegalità diffusa stanno svolgendo una serie di mirati servizi sia nel centro storico che nei quartieri commerciali della città. I militari della sezione radiomobile della stazione di Caltagirone sono supportati da comandi esterni quali lo squadrone eliportato, cacciatori di Sicilia e le compagnie di intervento operativo del XII Regimento Sicilia nell'effettuazione di pattugliamenti notturni, controlli dinamici dell'intero territorio, controlli agli esercizi commerciali e ai veicoli in transito. Nello specifico, la sera del 31 agosto scorso, le attività condotte hanno portato alla denuncia di due giovani del posto, un 20enne e un 23enne, i quali, sottoposti a controllo, avevano con sé un coltello e un palanchino, cosiddette armi bianche di cui è vietato il porto. Nella medesima serata, un 36enne di un comune limitrofo è stato controllato alla guida della propria autovettura e trovato in possesso di un quantitativo di marijuana che ha fatto scattare la denuncia a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, inoltre, con la finalità di educare al corretto comportamento alla guida per la salute propria e del prossimo, sono state elevate plurime sanzioni per violazioni al codice della strada. I controlli dei carabinieri sono stati effettuati anche a Castelvetrano, nel Trapanese, in questo caso le persone denunciate sono cinque. Vediamo perché. I carabinieri della compagnia di Castelvetrano, nello scorso fine settimana, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione di reati contro la persona, contro il patrimonio e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state denunciate cinque persone. Un palermitano classe 2000 in quanto, a seguito di una perquisizione personale domiciliare, è stato trovato in possesso di due smartphone rubati poco prima. Un romeno di 22 anni, residente a Partanna, deferito in quanto sorpreso alla guida di un ciclomotore risultato rubato. A seguito delle denunce, sia il ciclomotore che i telefoni cellulari sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Un Castelvetranese di 74 anni, invece, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato sorpreso dai carabinieri all'esterno della propria abitazione e per questo è stato deferito all'autorità giudiziaria. Un altro Castelvetranese, un 45enne residente a Triscina, è stato denunciato in quanto è stato sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvista di copertura assicurativa e assegnatagli in custodia giudiziale in quanto posta sotto sequestro nel 2021. L'uomo dovrà rispondere del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Nell'ambito dello stesso contesto operativo, i carabinieri della sezione radiomobile di Castelvetrano hanno intimato l'alt a un soggetto alla guida di un monopattino elettrico con a bordo un minore, il quale si è dimostrato da subito poco collaborativo e dopo essersi rifiutato ripetutamente di fornire un proprio documento di identità, si è opposto fisicamente agli operanti con spinte e pugni al fine di sfuggire al controllo ma è stato prontamente bloccato. A seguito dell'identificazione il 25enne è stato denunciato. Ancora cronaca con una notizia dall'Agrigentino per la precisione da Cammarata dove un operatore socio-sanitario di 31 anni è stato aggredito e picchiato. Il fatto è avvenuto in via onorevole Bonfiglio, come detto, a Cammarata. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Mussomeli con i medici che gli hanno diagnosticato contusioni e traumi guaribili in circa 30 giorni. I carabinieri di Cammarata hanno avviato le indagini per cercare di risalire all'autore o agli autori di questa violenta aggressione. Con ogni probabilità i militari dell'arma hanno già verificato l'eventuale presenza nella zona di impianti di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena. Ed ora invece torniamo a Palermo, scatta l'allarme in città per una serie di casi di legionella riscontrati in alcuni quartieri del capoluogo siciliano. Dopo il focolaio all'hotel Politeama, che è stato costretto a chiudere, il batterio, che provoca una malattia che si trasmette per via aerea e che colpisce prevalentemente il sistema respiratorio con forme anche acute di polmonite, batterio, dicevamo, è stato scoperto anche in un edificio di via Principe di Belmonte. I casi di legionella sono stati segnalati anche in altre zone della città con l'Asp che sta controllando l'attenzione, la situazione con massima attenzione. Parliamo adesso di spaccio di droga, ci spostiamo a Siracusa, due le persone arrestate, sono due giovanissimi, un ragazzo di 24 anni e la sua fidanzata di 19. I carabinieri della stazione di Belvedere, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un giovane di 24 anni, già gravato da precedenti per reati in materia di droga, e la sua fidanzata, una ragazza incensurata di 19 anni. I militari, che stavano monitorando la coppia da qualche tempo, hanno notato il classico via vai di persone, presumibilmente clienti, entrare e uscire subito dopo dall'abitazione. Il giovane, dopo che la pattuglia lo aveva raggiunto in strada per effettuare un controllo, ha provato a darsi alla fuga a bordo del suo scooter, ma subito dopo è caduto danneggiando anche due auto parcheggiate nelle vicinanze. L'arrestato, peraltro, guidava senza patente né assicurazione. Il motivo del tentativo di fuga è stato subito chiarito una volta effettuata la perquisizione nell'abitazione della coppia. Quando i carabinieri sono entrati, hanno trovato sul tavolo del soggiorno 3 kg di hashish divisi in panetti e numerose dosi più piccole, assieme a 13 mila euro in contanti, che la ragazza stava sorvegliando in attesa del ritorno del fidanzato, non aspettandosi che tornasse accompagnato dai carabinieri, i quali hanno così proceduto all'arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti dei due e al sequestro della droga e del denaro. All'esito dell'udienza di convalida, il GIP del Tribunale di Siracusa ha disposto gli arresti domiciliari per il giovane, a cui è stata contestata anche la resistenza pubblico ufficiale, mentre la ragazza è stata sottoposta all'obbligo di dimora nel comune di Siracusa, con permanenza in casa nelle ore notturne. Parliamo di calcio e nello specifico del Palermo. Ieri la conferenza stampa di presentazione di Mattei, uno dei tanti colpi di mercato messi a segno nel corso dell'estate dalla società Rosa Nero. Allora sentiamo alcune dichiarazioni del calciatore. Ho fatto sei mesi in Venezia e poi è rimasto a casa due mesi, però ho preparato ogni giorno con la mia squadra Giovanna dove ho iniziato, quindi ho preparato là ogni giorno. Poi ho sentito non lo so, tre settimane fa con la società e poi mi ho chiamato mister, poi era tutto veloce e dopo un giorno ho arrivato qua e ora sono qua. Sappiamo tutti se c'è qua secondo me grande futuro perché la società qua è grande, pure questa squadra è sempre questa squadra grande, con la grande storia. Secondo me sì, ho parlato e ho lavorato con mister tre anni fa, quindi io conosco lui, lui conosco me, quindi secondo me possiamo lavorare per questo anno e vediamo cosa è successo il prossimo anno. Difficile secondo me ora dicendo che andiamo in Serie A subito, andiamo a play-off, però noi dobbiamo guardare ogni partita e poi vediamo, però secondo me questa squadra è grande perché secondo me tutti guardiamo cosa il calciatore è arrivato qua con una grande esperienza, quindi secondo me anche l'ambiente qua è bello, quindi vediamo, vediamo, però secondo me questa squadra aveva futuro. Se posso giocare a destra, a sinistra, anche a mezzo, mi interessa cosa puoi dare alla squadra. Se mi stai mettendo a destra o centrale a sinistra, io voglio dare il massimo per questa squadra, quindi questo è importante anche se con me per la squadra questo è giusto. Se posso giocare a destra, a sinistra, a centrale, quindi secondo me questo è solo la cosa positiva. Sempre dove sono io voglio fare sempre il massimo, questa è la mia vita e questo lo devo fare sempre. Quindi vediamo, ora è andato Palermo a Serie B, quindi come ha detto prima, noi dobbiamo guardare solo una partita e dobbiamo fare il massimo e poi vediamo cosa succede. Per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti, quindi ci fermiamo qui, ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia. A più tardi.